Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli, se sei interessato alle ultime notizie meteo in Italia, premi il pulsante Mi piace per questo video e iscriviti al canale e attiva la campanella su tutte le notifiche. Grazie. Un temporale molto forte colpirà il Nord Italia dalla mezzanotte di giovedì fino alla mattina di venerdì 18 ottobre 2024. Questo temporale diventerà più forte sabato 19 ottobre con tempo molto brutto e forte su tutta Italia. Il temporale proseguirà per diversi giorni con tempo molto maltempo sulla Sicilia, al sud, nel centro Italia e anche all'estremo nord e anche sulla Sardegna. La quantità di pioggia prevista sarà compresa tra 50 e 300 mm. La pioggia sarà molto intensa, soprattutto venerdì e sabato, con temperature indeciso calo. Come ho detto, la tempesta continuerà per diversi giorni. Questa volta la minaccia alluvioni sarà presente in tutta Italia, con grandine e tempo molto brutto. Finora queste aspettative sono stabili al 92% e restate sintonizzati per maggiori dettagli nel prossimo video.